buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce mi è arrivato un commento qualche giorno fa che più o meno recitava questo no mister nichilista tu non sei un fallito però non ti senti un parassita non lavori non paghi le tasse poi usufruisci dei servizi dello stato un minimo di contributo dovresti darlo alla società bene oggi sono qui per rispondere a questa considerazione era un commento sotto al mio video io sono un fallito dove ovviamente a parte la gag iniziale dicevo che quelli come me sono forse gli unici non falliti di questa società ma parliamo di parassitismo io non lavoro non pago le tasse usufruisco di servizi è giusto questo dove darei anche il mio contributo allora io vi dico questo ve lo dico senza peli sulla lingua non solo non mi sento in debito nei confronti della società che mi offre dei servizi mi offre un'assistenza sanitaria nonostante io non abbia mai chissà quanto lavorato non solo mi sento in debito io mi sento in credito mi sono talmente in credito e penso che uno come me meriterebbe almeno 500 euro mensili dallo stato io mi sono ritrovato ok senza averlo chiesto al mondo e in questa società io mi sono ritrovato ok nel 1986 ora siamo nel 2020 in questo periodo storico non l'ho chiesto io a me la società in cui mi trovo mi fa schifo nel suo complesso mi fa schifo non perché tutto sia necessariamente da buttare molte cose sì qualcosa si salva non è tutto orrido però nel complesso a me disgusta questa società bene sono costretto a essere circondato da quando sono nato nella mia città nella mia città limitrofe da dei pensanti assoluti che di certo non ti fa certo non esistere devo pure sentirmi in debito nei confronti della società ma è il minimo è il minimo che mi siano garantiti certi servizi sono andato a scuola nel periodo soprattutto delle superiori dei 14 18 anni e ho subito per anni bullismo ecco la società e io mi dovrei sentire debitore nei confronti di questa società i 500 euro mensili da qui alla mia morte non pareggerebbero nemmeno i conti io continuerei ad essere fortemente in credito nei confronti della società ovviamente non me ne lamento ho superato forse non ho mai neanche mai avuto la fase del vittimismo io accetto quella che è la realtà vado avanti trovo la mia strada costruisco la mia vita interiore soprattutto la mia cerchia di relazione di qualità però non mi sentirò mai mai debitore nei confronti di questa società perché qualche servizio mi è garantito mai e già questo vale solamente per quello che vi ho detto finora se poi ci aggiungiamo quello che io faccio da dieci anni su youtube beh a questo punto anche se mi venessero dati 10 milioni di euro al mese rimarrei comunque io in credito io dico cose se si analizza il mio canale nella sua interezza ok non basta un solo video dico cose che dovrebbero essere la base dell'educazione a scuola a partire dall'elementare fino ad arrivare alle medie e alle superiori mi sostituisco alla scuola mi sostituisco a molte famiglie ok e questo meriterebbe se vogliamo dare un valore monetario a quello che faccio altro che dieci milioni di euro al mese non ha prezzo quello che io faccio non ha prezzo e non mi importa che questa cosa sia riconosciuta o meno è così è ovvio che una società di dementi non riconoscerà mai questo ma è così se c'è del cervello se si ragiona vi assicuro che quello che io faccio quello che io dico è molto più utile che qualsiasi attività imprenditoriale ok che qualsiasi servizio ho fatto da banche da avvocati da libri professionisti vi dirò di più forse sembrerà forte quello che vi sto dicendo addirittura quello che io faccio lo ritengo ancor più utile del medico che ti salva la vita per carità utilissimo il medico che ti salva la vita o che comunque ti cura è un modo comunque per allietare e ridurre le sofferenze risolvere guai della salute ma esiste anche una salute della mente una salute psichica e vale oro quello che io dico in questo canale se le cose che io dico se diffondessero maggiormente vivremo in un mondo più felice io vi offro la possibilità di essere felice ovviamente non è che io regalo la felicità non è che uno vede i miei video diventa felice no è come se io offrissi la possibilità di imbattersi in un qualcosa di decente che poi potrebbe far intraprendervi un percorso ma è un'opportunità fondamentale perché questa società non ve la offre questa opportunità i genitori sono disastrosi mediamente vi garantiscono l'infelicità con le loro cazzate la scuola vi istruisce eppure male e non vi educa a televisione non ne parliamo i social media in generale tra cui internet disgusto totale dalla mia labbra non solo su youtube ma anche nella vita privata quanto riguarda le persone in cui mi imbatto e mi sono imbattuto escono delle perle fondamentali se capite se interiorizzate se elaborate per la propria felicità è chiaro che se un qualcuno capisce i miei video e riesce a intraprendere un percorso è perché qualcosa dentro c'era già non posso risvegliare i morti totali però è già tanto no? mettere in modo un meccanismo che vi accende un qualcosa magari soppito dentro di voi oppure persone che magari rispetto a quello che dico hanno già tanto dentro però magari tante persone sono più fragili di me, più insicure e allora finiscono per abbandonare certe parti interiori per paura di venire giudicate, per paura di essere sbagliati allora io ti dico, vi dico, non siete sbagliati voi e questo dà coraggio, dà forza, dà entusiasmo per tirare fuori la parte migliore di sé e non abbandonare la parte migliore di sé e secondo voi io mi posso sentire un parassita perché non ho mai lavorato otto ore al giorno perché mi sono diplomato a 25 anni mediante un serale non mi sono laureato il mio curriculum è praticamente vuoto secondo voi mi sento poco valoroso per questo mi sento un parassita io ma questa è una società di parassiti gli unici non parassiti sono quelli che si avvicinano a Mr. Anichilista Errico Capaci e sono in qualche modo simili a lui ma l'intera società ad essere un gigantesco parassita che succhia la vitalità fino ad uccidere e anche chi mi pone questo interrogativo ma non ti senti un parassita mi dispiace ma è un po' morto anziché vedere i parassiti in quelli come me accendete il cervello e iniziate a comprendere che è questa mentalità dominante ad essere parassita è una mentalità che vi succhia tutto e non vi lascia più niente altro che Mr. Anichilista Parassita questo ovviamente considerando anche appunto la mia attività su YouTube ma anche se non avessi la mia attività su YouTube ok e fossi un ragazzo appunto con le sue idee non espresse tramite video penserei comunque anche in quel caso di non essere un parassita perché? in che modo? senza video senza questo canale che tu ritieni utile in che modo contribuiresti alla società? beh diffonendo le mie perle magari non in larga scala ma quelle poche persone che incontrerei al di là di YouTube incontro dieci persone in un anno nella mia vita privata diciamo senza YouTube bene io incontrerei dieci persone e regalerei loro la possibilità di avere più sorrisi che pianti già per questo sarei utilissimi io mi chiedo come potete ritenere che tutti quelli che lavorano lavorano siano utili 80% di persone lavorano secondo voi allora quelli lì non sono parassiti perché danno un contributo alla società pagano le tasse producono servizi bene poi magari nella loro prassi quotidiana trattano di merda gli altri mentono cercano di approfittarsi per metterli nel posto agli altri per ottenere dei vantaggi sono aggressivi sono cattivi e quindi il loro rapporto sulla società secondo voi è positivo sì danno in senso monetario in senso produttivo contribuiscono all'aumento del PIL poi però tolgono molto di più rispetto a quello che danno fanno stare male la gente contribuiscono a far stare male la gente incattiviscono il mondo imbarbariscono il mondo e voi state a guardare il loro misero contributino il cazzo ma andate a fare in culo condividete e commentate se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio Patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina Patreon cliccare in alto a destra su become a Patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1 2 5 10 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda o nei titoli di coda